troviamo un altro tentativo erba non da fumare fortunatamente il terreno è spagnato e viene via molto facile facciamo come facevano ragazzi vi do l'idea penso proprio che non se ne esca non se ne esce ho fatto qualcosa di azzardato grazie sto pensando che sarà molto duro ciao 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 ciao